In Italia 5 bambini su 100 sono piccoli geni, con un quaziente intellettivo superiore alla media, il cui talento li rende accelerati. Bambini per questo scambiati spesso per iperattivi e non plusdotati. Alunni incompresi nelle classi scolastiche, dove si sostiene la disabilità, ma non sempre si sanno gestire situazioni simili. Per questi bambini superintelligenti e per i loro genitori, nasce una rete promossa dal portale lacittadeibimbi.it che vuole mettere insieme famiglie, mondo della scuola, dell'università, l'ASL e l'Hub Talento dell'Università di Pavia. Il primo centro di ricerca italiano dedicato al talento e alla plusdotazione. Una rete che sia di supporto alle famiglie e alle scuole, perché il problema è riconoscere il bambino di talento, seguirlo con un sostegno adatto, il problema è non scambiarlo con quello che è un po' il trend dell'ultimo periodo con l'iperattività. Faremo questo per avere anche al Sud una formazione specifica per i docenti. Riconoscere se il proprio figlio è un bambino ad alto potenziale non è facile. E una diagnosi sbagliata rischia di far perdere per sempre un talento naturale e straordinario. Etichettare bambino operativo o altre patologie, perché purtroppo errori diagnostici sono molto frequenti. Il rischio è che il potenziale, che sappiamo non essere statico, ma è soggetto a una traiettoria di sviluppo, rischi di deprimersi.